Circa 24 milioni di euro è la somma complessiva di stanziamenti ex novo e risorse aggiuntive scaturita dal comitato di indirizzo Restart Abruzzo. Il comitato, svoltosi in modalità videoconferenza date le restrizioni imposte dai vari decreti del Presidente del Consiglio, varati in queste ultime settimane, è stato presieduto da Fabrizio Curcio alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, dell'assessore con delega alla programmazione Restart, ma anche il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, i responsabili degli uffici per la ricostruzione dell'Aquila, ma anche dei comuni del cratere, Salvo Provenzano e Raffaello Fico, e dei rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico, insieme al coordinatore dei comuni del cratere, Luciano Mucciante e Sandro Ciacchi. Si tratta di un nuovo forte impulso alla realizzazione degli interventi pensati e approvati dal 2016 ad oggi, con importanti novità che interessano diversi territori. Tra queste rilancio e il potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici sia invernali sia estivi, finanziato proprio su richiesta del Comune dell'Aquila. Risorse aggiuntive sono state approvate anche dal Comitato per la realizzazione dell'intervento di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici dell'Aquila, che mira a sperimentare l'uso dei veicoli elettrici nella città attraverso una serie di interventi che prevedono l'acquisto di autobus elettrici, incentivi per la conversione dei veicoli privati in auto elettriche. Andando poi nella terra della Baronia, si propone di rilanciare il sistema turistico, sono coinvolti nel progetto i comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofene e Castelvecchio Calvisio. Il programma di investimenti è finalizzato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, impatti occupazionali, incremento dell'offerta di beni e servizi per il benessere dei cittadini e la competitività delle imprese.